Come all'improvviso Villa Rosa acqua copilo, a prescindere acqua copilo O copilo, senza pilula, precosci che t'ampilo, indovina indovinello che cos'è E cosa fai? Oggi acqua, acqua con il pelo Amore, amore mio, la luce del mattino, amore, amore mio sei tu In ogni tuo respiro, amore, amore mio, c'è un angolo di cielo Ciao Federica, saluto, saluto a tutti da Villa Rosa e Enna Con allegria e simpatia Vivo per il giorno, qui vicino al mare Salvatore Giannone, ciao Salvatore Ciao Elena, mia cugina Elena Maria Pirrello Salutiamo a tutti Ciao Mimma, Mimma Castellana Elena Biparello, ciao Elena, ciao Peppe, ciao Gregory Buonasera, buonasera a tutti Dov'è Liliana? Fala autista Fala autista Fala autista Ma se no io il telefono lo poteste tenere in mano Ciao Patrizio, ciao Elena, ti saluto l'Eliana che guida, sta guidando lei Antonio Ferro, Antonio, Antonia Ferro Salutiamo a tutti i picciotti Saluto da Villa Rosa, Enna Un salutone E siamo qua per fare un giretto, per far vedere Villa Rosa a tutti gli emigranti siciliani, italiani, villarosani sparsi per il mondo E saluto tutti gli emigranti, ciao Dario Concetta Chiavetta, Giuseppe Lombardo, ciao a tutti Maria Pirrello, ciao Liliana ti saluta, Maria Pirrello ti saluta e concentrata a guidare Saluto mia cugina Concetta Guttadauro Un abbraccio Cettina Attenti, e come attenti? Della guida, Italy o Talevano Un abbraccio a tutti Qui siamo alla villa dietro al comune Attenti, stiamo facendo una passeggiata Una passeggiata con la macchina Con l'automobile Con l'auto, come si dice E' molto vedere il paesello Ok Io ho lasciato Ti potrò scordare, casetta mia Santo Rigatusso, ciao Santo Ciao Elisa, Elisa Debole Ciao Elisa, Elisa Debole Calogero Cavalieri, ciao Ciao Cettina Guttadauro, un abbraccio Ciao Pina Giannone Nostalgia di un passato Ciao Guttadauro, un abbraccio a tutti 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 Guttadauro 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 Grazie, un abbraccio a tutti Guttadauro 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 Ancora Quale strada state facendo? Sempre chi Siffra è? Un bene Che fate sconcentraste? Ciao Buona serata Buona cena Stiamo facendo l'ultimo passaggio Dio Cantire Qualcuno è il paesano mio Grazie Un saluto alla moglie saluto anche mia moglie perché di tanti personaggi che abbiamo non ci rendiamo conto ma che una moglie si rende conto saluto tutta quella sciubetta Antonietta Bellomo buonasera a Roma Paese Umberto Giave che ho stati 15 minuti che siamo in giro questo video lo trovate su Youtube chi vuole essere questo è genere alimentare restivo l'amico mio Gabriele e suo papà Campanessando dove fare le pizze buone e qua c'è mio nipote mio nipote Giovanni uno fa una bella rosa buona e arancine di accardo di alù e mi dobbiamo tutti Emilio le migliori piante di Villa Rosa pure e c'è pure l'auto qui c'è che piante di Villa Maria Nadia Concetta Messina Giovanna Anastasia ciao vediamo che la signora guida molto splendida casimocca a dire e qui siamo diciamo al collegio con Siani dove anticamente effettivamente qui c'erano tanti tanti ragazzi al collegio eppure mia moglie è stato a collegio che è la casa di Peppe Gallo ecco il collegio ok che è la mamma del reto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.